Il piccolo principe A Leon Wirt Domando perdono ai bambini di aver dedicato questo libro a una persona grande. Ho una scusa seria. Questa persona grande è il miglior amico che abbia al mondo. Ho una seconda scusa. Questa persona grande può capire tutto, anche i libri per bambini. E ne ho una terza. Questa persona grande abita in Francia, ha fame, ha freddo e ha molto bisogno di essere consolata. E se tutte queste scuse non bastano, dedicherò questo libro al bambino che questa grande persona è stato. Tutti grandi sono stati bambini una volta, ma pochi di essi se ne ricordano. Perciò correggo la mia dedica a Leon Wirt, quando era un bambino. Capitolo 1 Un tempo lontano, quando avevo sei anni, in un libro sulle foreste primordiali intitolato Storie vissute della natura, vidi un magnifico disegno. Rappresentava un serpente boa nell'atto di inghiottire un animale. Eccovi la copia del disegno. C'era scritto I boa ingoiano la loro preda tutta intera, senza masticarla. Dopodiché non riescono più a muoversi e dormono durante i sei mesi che la digestione richiede. Meditai a lungo sulle avventure della giungla e a mia volta riuscii a tracciare il mio primo disegno. Il mio disegno numero uno. Era così. Mostrai il mio capolavoro alle persone grandi, domandando se il disegno li spaventava. Ma mi risposero Spaventare? Perché mai uno dovrebbe essere spaventato da un cappello? Il mio disegno non era il disegno di un cappello. Era il disegno di un boa che digeriva un elefante. Affinché vedessero chiaramente che cos'era, disegnai l'interno del boa. Bisogna sempre spiegargliele le cose ai grandi. Il mio disegno numero due si presentava così. Questa volta mi risposero di lasciare da parte i boa, sia di fuori che di dentro, e di applicarmi invece alla geografia, alla storia, all'aritmetica e alla grammatica. Fu così che a sei anni io rinunziai a quella che avrebbe potuto essere la mia gloriosa carriera di pittore. Il fallimento del mio disegno numero uno e del mio disegno numero due mi aveva disanimato. I grandi non capiscono mai niente da soli e i bambini si stancano a spiegargli tutto ogni volta. Allora scelsi un'altra professione e imparai a pilotare gli aeroplani. Ho volato un po' soprattutto il mondo e veramente la geografia mi è stata molto utile. A colpo d'occhio posso distinguere la Cina dall'Arizona e se uno si perde nella notte questa sapienza è di grande aiuto. Ho incontrato molte persone importanti nella mia vita. Ho vissuto a lungo in mezzo ai grandi. Li ho conosciuti intimamente, li ho osservati proprio da vicino, ma l'opinione che avevo di loro non è molto migliorata. Quando rincontravo uno che mi sembrava di mente aperta tentavo l'esperimento del mio disegno numero uno che ho sempre conservato. Cercavo di capire così se era veramente una persona comprensiva, ma chiunque fosse, uomo o donna, mi rispondeva è un cappello. E allora non parlavo di boa, di foreste primitive, di stelle. Mi abbassavo il suo livello. Gli parlavo di bridge, di golf, di politica, di cravate. E lui era tutto soddisfatto di aver incontrato un uomo tanto sensibile.